Le IDI di marzo, un evento che ha cambiato la storia di Roma. Le IDI di marzo, il 15 marzo, erano un giorno importante nel calendario romano. Segnavano la metà del mese e coincidevano con diverse festività religiose, tra cui la celebrazione di Marte, Dio della guerra. Ma questa data è passata alla storia soprattutto per un evento cruciale, l'assassinio di Giulio Cesare nel 44 anno corrente. Il contesto storico. La Repubblica Romana era in un periodo di turbolenza. Cesare, dopo aver conquistato la Gallia e aver sconfitto Pompeo nella guerra civile, era diventato una figura dominante. Aveva ottenuto il titolo di dittatore perpetuo, carica che gli conferiva poteri eccezionali. La congiura. Un gruppo di senatori, tra cui Bruto e Cassio, temeva che Cesare stesse diventando un tiranno e che volesse abolire la Repubblica. Decisero quindi di assassinarlo. L'assassinio. Il 15 marzo, Cesare si recò in Senato. I congiurati lo circondarono e lo pugnalarono a morte. Le sue ultime parole, secondo la tradizione, furono e tu, Brute, anche tu, Bruto. Rivolte al suo amico e figlioccio Bruto. Le conseguenze. L'assassinio di Cesare gettò Roma nel caos. Ci fu una guerra civile tra i cesaricidi, guidati da Bruto e Cassio, e gli eredi di Cesare, Ottaviano, Marco Antonio e Lepido. La guerra si concluse con la vittoria di Ottaviano, che divenne il primo imperatore romano. L'eredità delle idi di marzo. Le idi di marzo sono un evento che ha segnato la fine della Repubblica Romana e l'inizio dell'impero. L'assassinio di Cesare ha ispirato molte opere letterarie, artistiche e cinematografiche. Significato storico. Le idi di marzo hanno avuto un impatto enorme sulla storia di Roma e del mondo occidentale. L'assassinio di Cesare ha segnato la fine di un'epoca e l'inizio di una nuova. La figura di Cesare e l'evento stesso sono stati oggetto di dibattito e interpretazione per secoli. Alcune domande su cui riflettere. Quali furono le cause dell'assassinio di Cesare? Quali furono le conseguenze immediate e a lungo termine dell'assassinio? Come l'assassinio di Cesare è stato interpretato nel corso della storia? Qual è il significato delle idi di marzo per la nostra comprensione della storia romana? Le idi di marzo sono un evento complesso e affascinante che continua ad essere studiato e dibattuto dagli storici. Oltre all'assassinio di Cesare, le idi di marzo erano anche un giorno importante per altre ragioni. Era il giorno in cui i cittadini romani pagavano le tasse. Era il giorno in cui i soldati romani venivano arruolati. Era il giorno in cui si tenevano diverse festività religiose, tra cui la celebrazione di Marte, Dio della guerra. Le idi di marzo erano quindi un giorno di grande importanza per la vita politica, economica e religiosa di Roma.